Comincia il campionato e comincia qui alla Giuva Valdini di Camogli, finalmente in casa nostra, finalmente davanti ai nostri tifosi. Segnato l'Arenzano, il gol del numero 6 nero, Arenzano in vantaggio. Mancano 5 secondi alla fine del primo tempo, rigore per i Camogli. Eccolo! Eccolo il primo gol della nuova stagione, il gol dell'1-1 del capitano Andrea Beggiato. Eccolo! Giglio Rossi, primo gol con la calottina bianconera per il classe 2004. Non so se da casa si riesce a percepire il clima. Adesso ci pensano i casual. Dado! Caglionia! 3 a 1! Uomo in più per i Camogli, davanti 3 a 1! Eccolo! Monari! Monari 4 a 1! Giglio Rossi! Giglio Rossi! La doppietta del 2004. Si presenta così. Mamma mia che esordio per Giglio Rossi. Giglio Rossi! La tripletta! Ale! Cambiaso! 7 a 1! Il gol del nostro centro boa! Andrea Beggiato! Doppietta del capitano, doppietta su rigore. 8 a 1, massimo vantaggio, più 7 per i Camogli in questo quarto tempo. Torna a segnare la Rarinantes Arenzano. 8 a 2. C'è stata l'espulsione di Barabino. È la terza. Gol dell'Arenzano. Attenzione, 8 a 3. E' 8 a 4. Terzo gol di questa frazione della formazione Savonese, che avanti 3 a 1 in questo mini parziale del quarto tempo. Termina ora. Applausi per tutti. Buona, buonissima la prima della formazione di Angelo Temellini, che parte con il piede giusto, conquistando i primi tre punti di questo campionato. Davanti al pubblico amico, nella propria piscina, finalmente. Lasciatecelo dire, è stato comunque un bel pomeriggio di sport.